Sei sicuro che stai sfruttando al 100% ogni singolo lead che entra nella tua marketing machine? Se non sei sicuro, bene, allora sappi che molti imprenditori commettono un errore di non sfruttare totalmente il mercato e voglio mostrarti l'errore e la soluzione in questo video qui. Sì, credo esattamente che la maggior parte delle aziende che fa marketing tutt'oggi, quindi già quelle un po' più evolute, che hanno comunque fatto campagne pubblicitarie, che fanno fiere, che fanno eventi offline, online, che fanno webinar, che fanno comunque attività di marketing, non sfruttino al 100% il proprio mercato a disposizione e commettono un errore molto molto comune. Mi capita in tanti settori, da quello di Lizia, fotovoltaico, formazione, venditi prodotti B2B, B2C, consulenze, è molto comune questa situazione, di non sfruttare il mercato a disposizione. Cosa succede? Succede che magari si fa uno, due, tre funnel più evoluti, quindi magari funnel legati ai prodotti, funnel legati ai target, funnel legati ai messaggi, quindi tipologie di situazioni diverse, ci genera al lead, su cui si va in azione telefonica per cercare ovviamente di andare in vendita, ma poi chiaramente i tassi di chiusura sono molto molto bassi, quindi ti direi 2, 5%, 10% i più evoluti, perché? Perché la gente che entra dentro un funnel, non devi immaginarla come uno che dice sì, sono pronto, ho la carta di credito, voglio pagarti, è una persona che sta dicendo mi interessa più o meno quello che dici, voglio saperne di più. Ok, siamo a un livello da 1 a 5, potrebbe essere a livello 1, cioè proprio semplicemente un curioso, 2, 3, 1 interessato ma vuole capire, 4 è altamente interessato, 5 è pronto, ma come vedi è una percentuale molto molto bassa, quindi quello che devi implementare, che io metto sempre in ogni strategia di marketing, proprio per evitare il fatto di andare a intercettare e andare a cercare di promuovere i propri prodotti servizi e quindi di venderli solo a coloro che sono pronti oggi, quindi una percentuale molto molto bassa, cerco di implementare la macchina di crescita con tutti e 5 motori, quindi i primi sono i funnel che ti portano i lead, il secondo contenuti di brand awareness per generare, ma il quarto come vedi è la marketing automation. Che cos'è la marketing automation? La marketing automation va a lavorare su tutti coloro che nei 5 livelli sono questi 4 qua, quindi quei livelli che o sono interessati o stanno valutando per un acquisto futuro o magari semplicemente vogliono prima capire meglio il mercato e poi eventualmente sposare una causa, ma è fondamentale che il marketing lavori post lead generation per intercettare tutto il mercato che hai a disposizione e quindi lavorare anche sui dopo tutti coloro che compreranno in modo come se fosse sommerso, immagino una linea immaginaria sotto l'iceberg dell'ora, tutti quelli che compreranno dopo grazie al marketing. Tra l'altro sono lead che hai già pagato, sono lead che ti sono già costati e ti costeranno sempre di più, lo dico da anni questo, quindi non ti puoi più esimere da questa situazione, devi assolutamente creare la tua marketing machine, la marketing automation che ti permette di segmentare. Come fai? Una volta che hai generato il lead, una volta che hai trovato il lead, ovviamente vai in azione commerciale subito e vai a sondare il terreno. La call diventa un touch point marketing, chiaramente commerciale, ma potrebbe anche semplicemente essere marketing, ma da qui ti sviluppi una serie di sequenze email che comunque rimane il touch point più proficuo a livello di ROAS in assoluto, di conseguenza creando diverse tipologie di segmentazioni e di offerte in arco del tempo puoi gestire un lead per un anno intero senza che tu faccia più nulla, quindi lo vai ad ammortizzare molto molto meglio. E magari il funnel diventa il punto d'accesso, hai una segmentazione per interessi in base a come loro ti hanno compilato i form o anche semplicemente con un solo campo di segmentazione, dividendo quello che tu hai intercettato e che ti interessa dividere, vai a dare una distribuzione di contenuti dedicata a loro. Quindi se una persona è un target A che magari è, che ne so, un architetto e tu devi fare una serie di marketing dedicata invece al mercato B2C, non possono essere gli stessi argomenti, sennò fai perdere interesse a entrambi, quindi devi assolutamente comunicare in modo parallelo. Poi sequenze di offerte, quindi ogni tanto in automatico manda delle offerte o del richiamo all'azione, magari ricontatta il commerciale, rigenerazione del lead, rigenerazione di vendite magari se hai dei corsi online o di automazioni, perché questo ti permette di fare cassa e liquidità su lead che magari hai generato due o tre mesi fa e tu manco te ne accorgi perché hai creato la tua marketing automation e il flusso della newsletter per creare l'azione del tempo con quella che è la diffusione del piano editoriale. Quindi mi raccomando diventa fondamentale creare la propria marketing machine, marketing automation per andare a sviluppare e a lavorare gli ora, conquistarsi tutto il mercato ed operare nella macchina di crescita, avere un motore in più di lead che hai già pagato ma che ti possono portare grandi benefici a livello economico. Ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao! 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 Grazie a tutti.